Questa è la veda Questo è l'Uberto Ciontici E qui è la delbo Ok Un buon cab Questo è l'Uberto Ciontici Complicemente brutto con questo buon cab Ma voglio vedere L'Originale Qui Oggi è l'Uberto Ciontici Ciontici Un buon cab ma ho trovato una chiamata che non sia la busta ma ho scocke la fine film ok, è tutto ragazzi